Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare la camera FPV e la videotrasmittente nel Flight Controller Omnibus F4 V2. Dopo aver collegato in maniera corretta i nostri componenti saremo in grado di settare l'OSD su Betaflight in modo da visualizzare i dati direttamente sugli occhiali FPV. Prima di procedere ai collegamenti verifichiamo i voltaggi necessari per far funzionare la videocamera e la videotrasmittente. Per quanto riguarda la VTX alcuni modelli come ad esempio la TBS Unify Pro hanno bisogno di un'alimentazione di 5V, altre invece come questa necessitano di un voltaggio compreso tra i 7 e i 24V. Per quanto riguarda le camere FPV ormai la quasi totalità di esse funziona con un voltaggio variabile che parte dai 5V fino ad arrivare ai 24, 36 ma anche 40. In ogni caso comunque è sempre meglio alimentarle con un voltaggio costante di 5V perchè alcuni ESC con attivato l'Active Braking, che sarebbero i freni attivi, possono creare dei picchi di voltaggio in grado di danneggiare la camera. Fornire un voltaggio costante poi ci garantisce un segnale più pulito. La zona qui in alto è quella dove vanno collegate la videocamera e la VTX. Come abbiamo detto vogliamo che la videocamera venga alimentata a 5V, quindi sul retro del flight controller in questo punto assicuriamoci che pad 5V e ram siano saldati tra loro. Solitamente questa è la configurazione di default ma è sempre meglio controllare. Adesso siamo pronti per fare tutti i collegamenti. Colleghiamo la camera FPV nei pad qua sotto, il nero nel GND, il rosso nel ram, e il cavo segnale nel VIN. Ora colleghiamo la VTX nei pad qua sopra. Come abbiamo detto il pad ram fornisce 5V in uscita che non sono sufficienti ad alimentare la nostra VTX, a meno che non si tratti di una Unify Pro. Quindi usiamo il voltaggio diretto della batteria, in questo caso fate attenzione a non collegare una batteria col voltaggio più alto di quello che la VTX può supportare. Solitamente se usate il LiPo 4 ma anche 5S non dovrebbero esserci problemi. Poi colleghiamo il cavo nero nel GND e il cavo segnale nel VOUT. Dopo aver saldato la VTX e la CAM possiamo collegare il flight controller al PC per configurare l'OSD su Betaflight. Clicchiamo su connetti e andiamo in configurazione. Scorriamo verso il basso e in other Feature attiviamo OSD. Quindi salviamo. Adesso sulla sinistra è comparso il menu dell'OSD dove possiamo fare tutte le configurazioni. Nella colonna a sinistra abbiamo tutti gli elementi che possiamo visualizzare a schermo. Di default sono tutti attivati ma possiamo cliccare qui e scegliere quale visualizzare, ad esempio l'RSSI e il voltaggio della batteria. Una volta selezionati possiamo prenderli e posizionarli dove preferiamo. Sulla destra abbiamo la configurazione dell'OSD dove possiamo scegliere il formato video, le unità di misura e gli allarmi. Dopo aver configurato tutto possiamo salvare. Per concludere vi ricordo che potete accedere alla configurazione di Betaflight direttamente dall'OSD. Per attivarlo basta mandare lo stick dello YO a sinistra e quello del pitch in alto. Una volta all'interno del menu possiamo fare tutte le configurazioni che facciamo solitamente davanti al PC. Questa caratteristica è molto comoda per quando siamo all'esterno. Questo era il mio tutorial su come collegare la camera FPV e la VTX al Flight Controller Omnibus F4 V2. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video. Grazie per aver guardato il video.